Come Croce Rossa ha tantissimi campi, quindi non è solo il discorso del soccorso, promuoviamo anche i buoni stili di vita e quindi con questa camminata con le cuffie, sentendo la musica e con i personal training, automaticamente facciamo inclusione sociale, unione, ci divertiamo tutti insieme promuovendo anche lo stile di vita e il fitness che è una cosa importante. Abbiamo la collaborazione con l'ASI, questa è la quarta edizione in tre anni e quindi è una cosa che unisce e fa bene, solidale perché automaticamente raccogliamo dei fondi importanti che poi li utilizziamo per aiutare il prossimo. L'iniziativa è una camminata con le cuffie, prima di tutto, in modo da non dare, arrecare il disturbo alla cittadinanza e nemmeno alla persona che ci sta di fianco. Quindi fare un percorso di circa 5 km, partendo dal mare quest'anno, sviluppandosi in parte lungo il mare, poi fino alla città e ritorno. Lungo il percorso ci sono delle tappe dove ci si ferma e si cambiano i personal trainer che guidano questo corteo di persone. Durante la camminata effettueranno dei piccoli movimenti, esercizi fattibili con la camminata stessa. Poi nei momenti dove sosteranno per fare il cambio verranno fatti dei piccoli esercizi, movimenti un pochino più completi, 10-15 minuti di esercizio che altrimenti si farebbe in palestra, ecco diciamo. Questo sarà tutto all'aperto. Nel caso che ci sia bel tempo, altrimenti saremo sotto il tendone, si farà tutto lì, logico non si quantifica in chilometri, si fa nel giro di un'ora una sessione divisa in 3-4 istruttori che faranno e alterneranno magari degli esercizi un pochino più mirati. Noi oltre a promuovere sani stili di vita, promuoviamo anche l'inclusione sociale che se vogliamo nasce anche tutto lì, il benessere anche della persona, cioè essere isolati non porta bene a nessuno. Per iscriversi all'evento trovate su tutti i canali social, Facebook e Instagram, sia di Croce Rossa Fano che Asi Peser Urbino, la locandina dell'evento, tutti i dettagli e un link che vi permetterà di fare appunto la pre-iscrizione dal costo di 5 euro, vi assicurerete così una cuffia e quindi la partecipazione all'esperienza, oltre che dei gadget esclusivi come magliette, borracce, zainetti e chiaramente questo per un numero delimitato di iscrizioni vi invitiamo a farla quanto prima. Al di là della pre-iscrizione di 5 euro ci sarà poi in loco, in mattinata, l'iscrizione vera e propria di euro 15, ovviamente per chi ha fatto la pre-iscrizione il costo si abbassa 10 euro.